Bentornati sul canale del Nabbo, continuiamo con Seno Gears, siamo ancora qui nelle fogne e dobbiamo risolvere il caso di l'urimo omicidio sul quale stiamo lavorando. Siamo arrivati al tubo Clue, adesso non dobbiamo fare altro che utilizzare il campanello che abbiamo trovato per far venire fuori l'assassino. E' qui! Togliti di mezzo! Dietro di te! Cosa? Ed eccolo qui, allora questo è il primo boss veramente serio con cui abbiamo a che fare ed è Redrom. Allora, il motivo per cui nello scorso video ho detto di mettere gli occhiali da sole su Shitan, che è il nostro Doc, è perché lui sarà il nostro curatore principale in questo combattimento, quindi non vogliamo assolutamente che il boss possa lanciargli confusione addosso. La strategia è molto semplice, dobbiamo utilizzare, non è che si chiamava Rizan? Reiki? Boh, non mi ricordo. Comunque, la seconda abilità di Shitan è un'abilità che fa in modo che il prossimo attacco etere di Shitan, dopo aver utilizzato Rikan, Razan, come cazzo si chiama, abbia effetto su tutto quanto il gruppo e non su una persona sola, e quindi la cosa diventa abbastanza semplice da capire. Si usa prima la seconda abilità e poi così, quando poi useremo la sua abilità di cura, cureremo tutto il gruppo in contemporanea. Faye e Reiko nel frattempo devono soltanto cercare di massacrare Redrom il più possibile. Redrom è fighissimo per tanti motivi, innanzitutto perché ha una mossa veramente cruenta, che è veramente figa da vedere. La vedremo nel corso del combattimento sicuramente. Il secondo motivo è che voi arrivate qui, commentate contro Redrom e penserete, ma sì, è un boss legato a quest'area, poi una volta sconfitto se ne frega, non sentiremmo mai più parlare di Redrom. E vi sbagliereste di grosso, perché diciamo che Redrom non è un boss a sé stante, Redrom è un boss abbastanza importante in termini di storia, ma queste sono cose che poi scopriremo più avanti, mettiamola così. Nel frattempo ovviamente, finché i punti vita dei nostri personaggi non sono tutti abbastanza bassi, possiamo utilizzare Doc anche per attaccare, non c'è bisogno che sia fermo a fare niente in attesa di dover curare. C'è bisogno di sangue e fuoco, è una mossa che fa un po' di danno a tutti quanti e cura Redrom. E così, una bella cura di gruppo. Ah beh, non so se ve l'ho già detto, che Rico è dannatamente veloce, è il personaggio più veloce dell'universo di Xenoghear, sul serio. Quel tipo è talmente veloce che riesce ad attaccare una volta dopo che gli altri personaggi hanno già attaccato 5-6 volte. E la cosa mi sta parecchio sul cazzo, devo dire la verità. Al suo contrario invece Doc, Doc Chetan è una bestia. Doc Chetan è veramente una bestia, cioè un terzo di punti vita in più degli altri, è più veloce di tutti gli altri, probabilmente è anche la stessa forza se non più forza di Fei. E' veramente una bestia. E in più cura da Dio. E non vedo l'ora di farvi vedere più che altro la mossa di cui parlavo prima di Redrom. E' una mossa fighissima, è veramente cruel, del tipo che uno dice Ma, sul serio, questo è un GDR della PlayStation 1 e ci sta una mossa del genere dentro. Porca puttana. Sarebbe comprensibile se il gioco fosse ideato, progettato e diretto da Quentin Tarantino, ma... No, non vedo l'ora che la faccia. Eccola qui, eccola qui, cioè è fantastica, cioè ci uccide un personaggio sul colpo, ed è per questo che è necessario avere Z-Sol per risuscitare, ma... Cioè, allora... Infilza la mano dentro un cazzo di personaggio, lo solleva, gli beve tutto il sangue e poi lo ributta a terra. E' meravigliosa questa mossa, è dannatamente meravigliosa. Ed è... Tipo, ultra cruenta per un gioco di questo tipo. Dai, quanto ti manca ancora? Ecco, il problema però è, giustamente, dopo che un personaggio viene ucciso dalla sua mossa omicidio, che dovete rilanciarvi e qualsiasi potenzialmente aveste già lanciato su quel personaggio. Questo è l'unico contro, diciamo, perché sinceramente, cioè, non è l'unico contro, l'altro contro è che in teoria un personaggio è morto. Però, la mossa è talmente figa che io la morte istantanea gli la perdono immediatamente. Ah, ecco, una cosa che mi stavo scordando di dire. Voi non mi state vedendo utilizzare delle... Eh, qua, guarda, guarda, io la amo questa mossa, cazzo la amo. Allora, dicevo, il motivo per cui non mi state vedendo utilizzare le combo in questo combattimento, che sarebbe, sinceramente, una cosa sensata, caricare tutta la barra di AP e poi massacrarlo con una combo ultra potente, sarebbe sensata. Non me lo state vedendo fare per il semplice motivo che... Non sono sicuro, non mi ricordo, se in caso di morte istantanea gli AP restano o tornano a zero. Visto che non sono sicuro di potermi mantenere gli AP che mi metto da parte caricando la barra per la combo, semplicemente me ne sto fottendo e sto attaccando normalmente di turno in turno. Questa è la mossa bastarda che o avvelena o causa confusione, anzi, entrambe avvelena e causa confusione. Ed è morto. Red Room è andato. E ci ha dato un bel po' di esperienza. Anche un po' di soldi. Non fanno mai male. Non fanno mai male. Cosa diamine era quello? Perché ha un campanellino? Aveva un'intelligenza normale, simile a quella umana. No. È meglio dire... aveva fatto in modo di lasciare qualcosa. Cosa? Che vuoi dire? è davvero... è davvero... assai triste. Ci vediamo dopo. Ti aspetterò nel tuo dormitorio. Ehi... il tuo braccio sinistro! In quel combattimento ti sei... non è nulla. Chissà se eviterà il torneo a causa di quella ferita. si è addestato? Sì, due... no... tre volte ad essere esatto. Mi è permesso di chiedervelo. perché si è voluto spostarlo in un posto come questo? Sono stati gli anziani? No. Essi sperano in una più immediata eliminazione. Non li biasimo. Trovano una paura profondamente impressa verso di lui. Dunque... Sì, probabilmente. Sarebbe affrettato eliminarlo ora. Non penso sia troppo tardi per aspettare. Finché non scopriamo il suo intento. Se questo è il tuo giudizio, allora così sia. Il vostro volere è il mio volere, vostra maestà. Bene, allora. Consentitemi di... Attendi un attimo. Capisco. Sì? Il loro giudizio è passato. Cos'è, allora? Una... Purificazione. Queste scene sono sempre dannatamente interessanti. Dannazione. Il generale del primo portale si trova a 160 km a sud-ovest di Nortun ed a 3000 metri sotto terra. Il generatore del primo portale. Le sue onde di interferenza rendono impossibile usare in quest'area le armi guidate a distanza. Perciò Lekt dovrà essere pilotato manualmente fino alla fine. Dopo la sospensione dello stato o azione furtiva, fornirete una scorta diretta per Lekt dentro la zona di difesa nemica. Qualche domanda? Sì, tenente. Capisco i nostri ordini di scortare Lekt. Ma... Qual è il nostro obiettivo principale? Questa è classificata come informazione a voi non accessibile. Ma... Senza sapere il nostro obiettivo... La nostra reazione a qualsiasi ordine sarà lenta. Anche se ci ha soltanto ordinato di fornire protezione. Dobbiamo almeno sapere qual è l'obiettivo dell'attacco. L'obiettivo verrà divulgato durante la missione. Sarà subito trasmesso ai piloti dell'EKT. Ma... Il vostro unico compito è di proteggere l'EKT dalle armi antiaeree del nemico. Qualche problema? No. Se è così... Qualcos'altro? Allora, questo conclude la spiegazione delle disposizioni principali. Dettagli riguardo al terreno, le condizioni atmosferiche e la difesa del nemico sono a vostra disposizione. La missione inizia alle 17. Fino ad allora, attendetene le unità assegnatevi. Non dovrei aver bisogno di ricordarvi che questa missione è una purificazione. Ricordate, noi abbiamo autorità assoluta sugli agnelli. Rompete le righe. Cazzo, tenente, questa cosa non mi va proprio giù. Come possiamo continuare in questo modo? Quello lì che... Intendeva quando ha detto che l'obiettivo non ha nulla a che vedere con noi. Silenzio. Sto pensando. Non mi mangi mica, eh. Odio le donne isteriche. Sei pronto a subire le conseguenze di quel tuo commento? Oh... Cazzo. Non fare incazzare Ellie. Uff. Cosa c'è? C'è qualcosa che le dà fastidio? Scusa, sono molto tesa. Lo so io cosa ti sei. Quelle bombe autoesplosive non sono altro che unità aeree con a bordo delle bombe di tipo Kiev. Non capisco perché debbano usarle tutte così all'improvviso. È solo che ce ne sono troppe. Una sola di quelle avrebbe abbastanza potenza di fuoco, ma usarne otto vuol dire distruzione totale. Non ci hanno ancora detto il nostro obiettivo e di certo non le sganceremo solo per divertimento. Potete scommetterci che sono preoccupata. Forse è per purificare gli agnelli? Sono umani, proprio come noi, no? Devono darci una ragione. Non posso continuare a farlo solo perché è un ordine. Mmm. Che c'è? Nulla. Anche se siamo chiamati isolariani, noi siamo cittadini di terza classe. Detti anche api operaie. Posso capire se fossimo noi a dubitare di questi ordini. Ma voi, voi siete diversa. Siete una pura cittadina di prima classe. E venite da una buona famiglia. Ho sentito dire che vostro padre ha molto peso tra i militari. Mio padre e la mia famiglia non hanno nulla a che vedere con questa faccenda. Beh, se me lo chiede una cittadina di prima classe che la pensa così è un po' strano. Non proprio, è piuttosto normale. Allora, cosa ne pensa? Lo farà? L'esercito ci degraderà tutti a cittadini di terza classe. Non preoccupatevi, comprerò solo il mio dovere. Ma l'unica cosa che farò sarà scortare l'hect. Non farò null'altro. Ma e se succede qualcosa? Si sta solo mettendo nell'angolo. Non posso farne a meno, credo. Beh, per noi non c'è differenza. Faccia solo ciò che le viene detto, altro non importa. Se sto a parlare di cittadini di prima, seconda e terza classe mi fa pensare sempre al regno di armonia nella serie di Suikoden. Capirete quando arriveremo a fare Suikoden 3. Comunque, siamo fuori dalle fogne, quindi saltiamo giù e torniamo nel nostro comodo giaciglio. Sei in ritardo, mi hai fatto aspettare per secoli. Oh, eh, scusami. Dopo il fatto... Doc ha detto di voler ripagare il favore di aver ammazzato il mostro. Così ho aspettato fuori. Questa proprio non l'ho capita che cazzo significa. Comunque, davvero. O beh, almeno abbiamo messo fine agli omicidi. Sì, è vero. E inoltre, si è potuta provare l'innocenza di Faye. E immagino anche che l'ordine di vietate l'accesso alle fogne sia stato tolto subito dopo. Comunque, la mia alleanza con voi finisce qui. Faye, la prossima volta che ci incontriamo, saremo nemici. Avanti, prova a battermi. Mi piacerebbe vederti che provi a regolare i conti con me. Ehi, ehi, il braccio è ferito. Non puoi battagliare in questo stato. Puoi davvero permetterti di preoccuparti del tuo avversario? Ma... Rico... Prima preoccupati di te stesso, poi degli altri. Non fermarti ora. Offrimi il tuo miglior combattimento. Se non farai del tuo meglio, potresti essere tu a morire. Capito. Bene. Ottima cosa. Bene. Ora che quel problema è stato risolto, ho fatto tutto ciò che potevo per aiutarti. Il resto è solo a tue spalle, Faye. Devi risolvere questo problema con le tue stesse mani. Lo credo anch'io. Il suo braccio è ferito o ti preoccupa davvero così tanto? Faye, lo capisci che non abbiamo... Lo so, Doc, ma non abbiamo molto tempo da perdere. E per di più, quello che ha detto è vero. In battaglia non ci si deve trattenere. L'etichetta di un combattente impone di fare sempre un vero combattimento. Sembra che io fossi troppo preoccupato. Comunque, ora riposiamoci. Ricorda, per prima cosa devi vincere la finale del torneo. Ed il campione non è l'unico che devi battere. E su questo noi ci salutiamo. Appuntamento alla prossima puntata per le semifinali di Battagliare. Fino ad allora auguro a tutti uno splendido eseguimento di giornale. Grazie. 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 Grazie.